Il futuro è la legalizzazione della cannabis, è talmente di buon senso, è talmente evidente che sono legali delle sostanze ben più nocive della cannabis, come l'alcol, come il tabacco. Quindi accanirsi nei confronti di questa sostanza e consentirne il monopolio da parte della criminalità organizzata è veramente un non senso scientifico e un non senso politico. Io credo che il tema vada riproposto, è di grande importanza, di grande attualità e in Commissione Giustizia vi è una proposta di buon senso che mi auguro e spero possa trovare il consenso delle opinioni pubbliche, oltre che naturalmente delle forze parlamentari.